Due frane, a distanza di pochi mesi, hanno decretato la chiusura di una strada comunale che consentiva ai residenti, facendo poco più di un chilometro, di essere in pochi minuti a Pesaro. Ora devono passare per Trebbiantico e allungare di oltre 6 chilometri, dilatando notevolmente i tempi di percorrenza in orari ad alta intensità di traffico per recarsi al lavoro. Siamo in uno spicchio del quartiere di Muraglia, in strada San Nicola, dove da 5 anni 22 unità abitative subiscono questo disagio. E qui siamo dalla parte opposta della frana, sempre su strada San Nicola, come vedete qui a poche decine di metri c'è l'ospedale di Muraglia, qui il cartello indica strada chiusa. I residenti farebbero veramente pochissima strada per arrivare a Pesaro. È stata chiusa perché è frannata, è frannata quasi 6 anni fa, poi è venuta giù un'altra frana 5 anni fa e da allora la apriamo, vediamo e soldi non ci sono, però per cose magari che interessa a tutto il resto ci sono i soldi. Oltretutto sotto abbiamo le tubature del gas e dell'acqua, spesso succedono dei problemi di rotture, molto spesso, e chiaramente diventa ancora più difficile trovare il guasto, perché sotto questa frana si immagini andare a cercare, bisogna aspettare che si formi il laghetto, quindi tonnellate di acqua. La natura in questo periodo ha chiaramente fatto il suo corso, prendendosi la rivincita sul cemento, con chiari risvolti negativi per chi è a ridosso della selva che ormai si è formata. È diventata una giungla, quindi noi nel giardino di casa, dove prima chiaramente ci potevamo stare tranquillamente, adesso troviamo di tutto, dagli istrici ai daini, animali che comunque risultano anche pericolosi e che in qualche modo non tutelano la nostra incolumità. Sono dei muchi di calcinacci che sembrano essere dell'amianto, delle cose così, che lasciano tutto lì in giro. Possiamo andare giù anche a verificare. Perché qualcuno, insomma, lascia tutto lì, esatto, potature, calcinacci e così via. Ma oltre al disagio dei chilometri in più che si è costretti a fare diverse volte al giorno con ripercussioni economiche negative sul bilancio familiare, al danno si può aggiungere anche la beffa, perché in casi di emergenza in cui i minuti sono preziosi, ambulanze e operatori sanitari allungano i tempi di intervento come purtroppo è già accaduto. La domenica 12 maggio 2012 è venuta su due ambulanze, ma come si fa a fare tutto il giro così? Qua non passa, devono passare di sopra e mio marito dopo due ore è morto, capito com'è la situazione? Più volte, sollecitato il comune sia con la vecchia che con la nuova giunta, ha sempre deluso le aspettative dei residenti, lamentando prima l'assenza di fondi per l'intervento e successivamente attribuendo la responsabilità ai proprietari dei terreni franati, con la conseguenza che ora si è giunti alle carte bollate e agli avvocati. Ci si incontra in tribunale davanti a un giudice perché chiaramente il CTU che è stato nominato dal comune debba stabilire in base a questa richiesta che il comune ha fatto nei confronti appunto nostri se la responsabilità è del comune o nostra. Cioè quindi immaginate, diciamo, l'assurdità di questa faccenda. Che ne sarà ora di questo che è sempre stato un piccolo gioiello paesagistico a disposizione di turisti e residenti? Se lo chiedono anche i componenti di Casa Pound e dell'associazione Molo 4 affiggendo uno striscione eloquente in via Lombroso.